Allora, via Romagna 107, la parte alta, c'è stato un incendio con molta probabilità di natura dolosa. Una persona, una signora è stata portata in ospedale, vedete alle mie spalle una decina di persone, cioè i condomini che sono stati allertati, i vigili del fuoco e invitati in fretta e furia, prima a restare in casa evidentemente per non intralciare i soccorsi e poi ad uscire rapidamente dal condominio. Via Romagna 107, la parte alta, proprio in questo momento sono in corso le operazioni di spegnimento anche per disattivare eventuali altri focolai che possono accendersi anche nell'impianto elettrico. Questa è la situazione in questo momento.